la colpa forse della sedentarietà o di quelle giornate che cominciamo a vedere si accorciano sempre di più insomma rischiamo di ritornare se siamo stati un po più attivi durante il periodo estivo ad essere più sedentari qui non vogliamo ovviamente sgridarvi ma vogliamo darvi dei suggerimenti molto utili con noi e dal buongiorno e ben ritrovato al professor calogero foti docente di medicina riabilitativa presso il policlinico tor vergata di roma buongiorno allora facciamo insieme un po di esercizio fisico facciamolo in sicurezza e facciamolo a casa che è molto più semplice appunto però in sicurezza cosa dobbiamo sistemare all'interno del mobilio casalingo per evitare piccoli incidenti che invece che aiutarci con l'esercizio fisico ci danneggiano faccio una piccola premessa cioè fare attività domestiche attività allenante al domicilio è certamente utile e a volte bastano piccoli spazi anche girare attorno al tavolo andare da una stanza all'altra ecco già questo è un'ottima attività per fare esercizio aerobico a quel punto si usano non lo so la cyclette il tapis roulant per correre consigliati la la cyclette è certamente utile nelle mura domestiche specialmente se messa davanti a un buon diffusore oppure davanti alla televisione magari vedendosi elisir pedalare può essere certamente molto utile oppure fare le scale tante volte sentiamo anche fare le scale potrebbe essere utile certamente le scale certamente sono un altro sistema utile le scale condominiali o anche in appartamento ma anche farlo come esercizio quindi fare una volta al giorno le scale per 5 10 minuti anche più volte al giorno diventa certamente un modo per mantenere la la forma fisica allora facciamoli un po di esercizi insieme qui a elisir quindi do il buongiorno a giulia fosci allenatrice della uisp unione italiana sport per tutti benvenuta benvenuta allora qui abbiamo una sedia una sedia che potrebbe essere molto utile per fare degli esercizi per esempio cosa potremmo fare grazie a questa sedia per esempio possiamo iniziare mobilizzando la colonna dorsale e cervicale con questo movimento che è molto molto utile come vedete estende il capo e contrasta la cifotizzazione della colonna quindi un esercizio delizioso che viene fatto senza carico e quindi quindi utile possiamo anche continuare facendo vedere degli esercizi di colonna cervicale quindi di mobilizzazione della colonna cervicale che un po un mio pallino che dovrebbero essere fatti ogni giorno a qualcuno però potrebbe girare un po la testa facendo certamente certamente può succedere devono essere implementati e aumentati nel tempo giorno dopo giorno non ci si deve arrivare subito in media troppo violenta sono straordinari perché in effetti la colonna cervicale il capo in questo modo si allenano alla vita alla vita quotidiana quindi sono movimenti come vedete utili da fare secondo me ogni giorno la mattina in particolar modo per 5 10 minuti in tutte le direzioni così come sta facendo la nostra istruttrice di scienze motorie questi esercizi chiedo a giulia fosci possono essere fatti sulla sedia a prescindere dal grado di mobilità a prescindere dall'equilibrio di forza insomma quale consiglio da sì allora possono essere fatti in qualsiasi situazione ovviamente se c'è una difficoltà nel movimento o un dolore si fanno più piccoli ma sono assolutamente utili non compromettono nulla sono sicuri sulla sedia meglio se tante volte dovesse girare la testa però perché sia è stabile a quel punto professor foti si può avere qualche qualche proprio il giramento di testa perché andiamo a lavorare un po sulla sul sistema dell'orecchio dell'equilibrio però sono fatti quotidianamente da tutte le persone abbiamo visto appunto come suggeriva il professor foti seguire elisir e anche fare questi esercizi nell'altro esercizio possibile fare usando sempre una sedia beh per esempio potrebbe far vedere adesso un attività isometrica con gli arti superiori le mani appoggiate al bordo della sedia lei va per alzarsi senza alzarsi e in questo modo è un'attività isometrica dove si contrasta la cifotizzazione nello stesso tempo mette in attività isometrica tutta la muscolatura antigravitare di arto superiore tronco e quindi è certamente un esercizio utile così come potrebbero essere utili degli esercizi di arto superiore fatto appunto con le bottigliette anche se io suggerisco sempre all'inizio di non usare arrivarci poi per gradi e così Giulia ci farà vedere questi esercizi che sono importanti perché vengono mobilizzate le articolazioni di artrodiali ed è utile per contrastare dall'artrosi quindi da tenere in considerazione Michele stiamo pensando alla postura una mia fissazione perché già si tende quando si studia ad affrosciarsi non ti dico poi col computer e allora l'esercizio che faccio più spesso è l'isir quando mi inquadrono sta dritto faccio bene sì assolutamente come al solito e come al solito non posso mai dire lei non ti giri perché altrimenti l'inquadratura non viene nella postura assolutamente vero perché noi per quanto riguarda la postura dobbiamo combattere contro due contro due fenomeni l'immobilità e la forza di gravità e quindi per mantenere la postura il più possibile corretta dobbiamo fare esercizi che contrastino queste due questi due eventi quindi bisogna come dire retroposizionare le scapole così come ci sta facendo vedere Giulia che anche viene detto in gergo aprire le spalle e nello stesso tempo decifotizzare e poco fa Giulia ci ha fatto vedere dei begli esercizi per quanto riguarda questo aspetto utile anche il cammino camminare molto ecco i piedi e lì volevo arrivare anche con Giulia cosa si può fare per allenare anche i piedi perché comunque sono un punto di riferimento fondamentale sia per l'equilibrio ma anche Giulia per evitare distorsioni assolutamente distorsioni cadute che insomma nella popolazione e quale esercizio si potrebbe svolgere avendo a disposizione un attrezzatura come questa o simile si possono appoggiare i piedi sopra e mantenendo una postura corretta senza stare dritti e si dritti con la schiena in allungamento fare esercizi di mobilità generale niente di specifico esercizietti per mantenere la caviglia mobile per mantenere il polpaccio attivo in modo che possa essere utile per il sistema vascolare e mantenendo una postura corretta c'è poi anche tutta un'attivazione degli arti inferiori del tronco e diciamo che è anche molto semplice da reperire uno strumento del genere stando seduti è un esercizio molto semplice si può fare avanti alla televisione senza distrarsi troppo e allora consigli ce ne sono veramente tanti Benedetta professor Foti in realtà è un dubbio che ci ponevamo in redazione ma fare attività aerobica a parte i mugugni di Michele Coapan che sta lavorando sulla sua postura all'aria aperta rispetto all'interno di una casa o di una palestra c'è una differenza in termini di benefici intendo beh certamente Benedetta sarebbe meglio lavorare sempre all'esterno specie noi che viviamo in Italia e abbiamo un clima sicuramente accettabile gli esercizi all'aperto permettono una respirazione quindi scambi pulmonari molto più efficaci e inoltre aggiungono un po' di come dire di suspense agli esercizi perché vengono fatti insieme agli altri insieme alla vita che scorre all'esterno oltretutto un ultimo un recente studio di un gruppo inglese ha visto come attività all'aperto specie lungo le coste sia favorevole sia per il tono dell'umore sia per il miglioramento della qualità di vita di queste persone che vivono lungo le coste quindi certamente l'esercizio fisico all'aperto aiuta non c'è dubbio però è pur vero che farlo in casa assicura una sicurezza nel fare esercizi domestici e poi comunque ci si muove il che comunque ci fa molto bene ringrazio intanto Giulia Fosci allenatrice dell'Unione Italiana Sport per Tutti per averci aiutato e consigliato alcuni esercizi e consigliato alcuni esercizi e consigliato alcuni esercizi e consigliato alcuni esercizi e consigliato alcuni esercizi